Ciao, grazie mille. Gli altri non lo sanno, ma io sono stato con te fortunatamente per il pomeriggio seguendoti, quindi sono già goduto della tua testimonianza e oggi veramente mi fa molto piacere condividere con chi ci sta seguendo adesso, con chi ci ascolterà anche registrati, quello che ci puoi raccontare intorno all'imprenditorialità. Io ti ho conosciuto nel 2012-13 quando c'è stato il tuo famoso TED, il primo penso sia stato, in cui ho detto ma quest'uomo chi è? E mi sono andato a prendere il tuo libro che parlava di passione imprenditoriale, volevo presentarlo questa sera ma se è nascosto in libreria non riesco a ritirarlo fuori, lo leggevo settimana scorsa. E quando ho avuto l'occasione qualche mese fa di essere invitato ad ascoltarti, ad essere coinvolto in un gruppo di persone che intorno a te, con la tua mentorship, con il tuo guida, si confrontano, per me è stato un grandissimo onore invitarti in questo nostro spazio. Quindi grazie tanto di essere con noi Ernesto. Grazie a te, è un onore, è un onore. Poi è un grande piacere parlare con italiani. Io sono qui in California, il mio italiano è un po' stentato e quindi prima o poi farò degli strafalcioni in italiano, dirò delle cose e userò magari delle parole in inglese. Spero che voi mi perdoniate. Sono qui in California, sono quasi mezzogiorno qui, una bellissima giornata di sole, però siamo anche noi in quarantena, siamo ancora da circa 40 settimane qui in California, la cosa non si è fermata, non si è calmata mai. E poi abbiamo avuto un bruttissimo anno, prima con gli incendi, abbiamo avuto per sei settimane pioveva cenere, perché eravamo circolari da bruttissimi incendi. E poi abbiamo le lezioni, abbiamo degli altri problemi, ma a parte questo siamo qui con una bellissima giornata di sole a novembre e con gli alberi che hanno cambiato colore siamo circondati di bellezza. Ed è la parola bellezza, tra l'altro è tornata anche oggi e forse tornerà anche nella chiacchierata di adesso. Volevo proprio partire da questo, aiutare chi non ti conosce a capire da dove nasce la tua esperienza. Se ci puoi raccontare un pochettino dove è stata un po' la tua epifania e la tua connessione col mondo degli imprenditori. Sì, io ho lasciato l'Italia nel 78, al tempo delle Brigade Rosse. Aldo Moro era uno dei miei professori a Scienze Politiche a Roma e fu ucciso nel 79, se ricordate. Io per cinque anni, sei anni, avevo cominciato a lavorare da giovanissimo, avevo 21 anni. Nel 71 avevo cominciato a lavorare per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo e lavoravo per un ente, a quei tempi si chiamavano gli enti idonei per la cooperazione tecnica. Noi eravamo quelli che preparavano i ragazzi a fare il volontariato in Africa, invece di fare il servizio di leva andavano per due anni in Africa. Io lavoravo per uno di questi enti a Roma e ero ancora uno studente di Scienze Politiche all'Università, alla Sapienza, quando ho cominciato a lavorare a tempo pieno per questa agenzia. E ho lavorato in vari paesi africani, Zambia, Kenya, Costa d'Avorio, Algeria, Somalia e in quel periodo tutti mi resi conto che la cooperazione internazionale non funzionava. Non funzionava perché i nostri progetti duravano soltanto quanto i nostri soldi. Appena i soldi finivano il progetto scompariva, perché le persone locali non avevano nessunissima intenzione di continuare a fare quello che gli avevamo insegnato. E quindi una crisi piuttosto profonda dopo 5-6 anni dove tutti i progetti fallivano. Una crisi profondissima. Un libro che era diventato un best seller internazionale, piccolo e meraviglioso, venne tradotto dall'inglese, Small is Beautiful, dall'inglese, venne tradotto in italiano e lo fece Prodi quando era professore a Bologna, alla Business School di Bologna. Lui si innamorò di questo libro, lo fece tradurre in italiano e una mia collega mi disse guarda un po', tu se non sei, sei depresso perché tutti i nostri progetti vanno all'aria, leggi di questo libro. Io ho lessi piccolo e meraviglioso e piccolo e meraviglioso fu come uno schiaffo in faccia, perché in piccolo e meraviglioso l'autore, Schumacher, disse se le persone non vogliono essere aiutate, lasciali in pace. Questo dovrebbe essere il primo, il primo, diciamo, la prima legge della cooperazione internazionale. Se le persone non vogliono essere aiutate, lasciale in pace. E quando mai noi chiediamo il loro permesso? Noi mica aiutiamo le persone in Africa perché ci hanno chiesto aiuto. Noi arriviamo perché noi pensiamo di essere migliori di loro e siccome abbiamo tanta compassione, arriviamo e gli diamo la nostra tecnologia, la nostra cultura. Noi arriviamo, ma noi arriviamo perché pensiamo che deve avere un obbligo morale di aiutare, non perché ci hanno chiesto aiuto. E Schumacher, questo autore, disse Chi credi di essere? Come ti permetti di arrivare non invitato a casa di altri? Che cosa succederebbe se tu lo facessi a un italiano? Se tu lo facessi alle persone, i tuoi, nella tua cultura? Cosa succederebbe se qualcuno non invitato da te entrasse dentro casa tua a dirti come educare tua figlia? Tu come lo tratteresti? E chi si può permettere di fare una cosa del genere a noi? E allora come mai noi lo possiamo fare agli africani? E fu una cosa pazzesca per me perché pensandoci mi sono reso conto che noi arrivavamo, non chiedevamo mai permesso. Era scontato che secondo noi gli africani si dovevano mettere a baciarci i piedi quando arrivavamo. E senza rendermi conto che gli africani non sono i nostri bambini, non sono i nostri soggetti, non sono i nostri soggetti, non sono i soggetti della nostra munificenza. Sono attori nel loro sviluppo. E quando mai noi avevamo pensato a loro come attori nel loro sviluppo? E quindi appena ho letto quel libro fu come uno schiaffo in faccia. Che tipo di arroganza abbiamo che ci dice che noi possiamo arrivare non invitati a dire alla gente cosa fare? Per questo i progetti falliscono, perché questi ci guardano, si pigliano tutti i soldi che abbiamo e appena i soldi finiscono smontano le costruzioni che abbiamo fatte, si portano le ramiere ondulate sulle loro case, smontano i mattoni per allargare le loro case, non per fare quello che gli avevamo detto di fare. E quindi per me fu una mortificazione, ma fu l'inizio di capire che no, noi possiamo aiutare le persone a fare quello che loro amano fare. E quella fu la rivoluzione. Immaginate la possibilità di essere invitati ad aiutare. Ma allora diventa semplicissimo, perché allora adesso ha a che fare con la passione della persona che ha il sogno di diventare meglio e ti chiede aiuto. Il momento in cui tu non devi motivare, il momento in cui tu rispondi, ma allora è tutto di una semplicità straordinaria, perché almeno la persona è lei che ti tira, è lei che ogni cosa... E come ho scoperto che dare un bicchiere d'acqua ad una persona che esce dal deserto è molto più facile che convincere le persone a bere se non vogliono bere. E quindi io andai a fare, lasciare l'Italia, dopo la mia laurea in scienze politiche, andai a fare un dottorato di ricerca basato su sviluppo economico in risposta. Mai iniziato. E mi dicevi tra l'altro che i tuoi professori non erano per niente d'accordo con questo modello dal basso? I miei professori impazzirono, mi dissero, ma Sirolli, ma chi ti inviderà mai? Una comunità ricca o una comunità povera? Pensaci un attimo, Sirolli, quello che stai dicendo non ha senso, perché chi ti inviderà, nessuno ti inviderà, ma facciamo anche il caso che una comunità decide di invitare te, e tu arrivi in questa comunità, e poi tu dici che tu troverai lì le persone che hanno questa grande passione per fare qualche cosa, e poi tu li aiuterai. Ma dimmi, ma quale sarà la comunità che ti inviderà? Una comunità ricca o una comunità povera? E io dico, beh, una comunità povera probabilmente. E allora, chi vive nelle comunità povere? E io dico, beh, la gente. No, i poveri vivono nelle comunità povere. E tu vuoi stare a sentire i poveri? Come non avessero idea. Non sono educati. Sono disoccupati. Se sono poveri sono perché la comunità è lontana dai mercati, perché non hanno conoscenza. E tu vuoi ascoltare loro, ma sei pazzo. Il modello può essere soltanto il modello che siamo noi, che abbiamo la conoscenza, ci organizziamo per dare la conoscenza a quelli che non ce l'hanno. No, che stai cercando, Sirolli? E io ho studiato psicologia. E invece cosa è successo? Perché poi tu sei andato sul campo, hai detto. E lì hai fatto un po' le crotture. Perché il professore mi ha detto, dimostrami, dimostrami che le persone, anche le persone povere, anche nelle comunità povere, le persone hanno volontà di fare qualche cosa. Io avevo studiato psicologia, io lo sapevo. Ogni persona ha un sogno. Ogni persona al mondo ha un sogno, il sogno è di avere di più. E appena hanno un po' di più, vogliono essere di più, vogliono essere meglio. Quindi la prima cosa che vuoi è riuscire a vivere ogni giorno, avere un tetto sulla testa. Ma appena hai da mangiare, hai un tetto, vuoi rispetto, amore. Vuoi avere una serie di cose, che sono tutte cose che hanno a che vedere e con il rispetto di te stesso. E quindi questo è quello che io ho imparato studiando la psicologia della crescita, psicologia umanistica. Quindi io lo sapevo, c'erano persone dappertutto. E il mio professore fa, provamolo. E io dice, allora te lo provo. Dammi la possibilità di fare un dottorato di ricerca sperimentale. Io andai a finire in una comunità, aiutato dal professore, in una comunità di 10.000 abitanti che aveva perso 700 posti di lavoro perché l'industria della pesca del tonno era stata quasi distrutta completamente dal governo che voleva evitare la pesca del tonno. In questa comunità di pescatori e di coltivatori ho voluto dimostrare che io avrei trovato persone con i loro sogni che io avrei potuto aiutare e ci ho messo quattro giorni a trovare la prima persona che aveva provato una piccola attività commerciale perché lui aveva perso il suo lavoro come direttore di questa fabbrichetta che aveva a che fare con il pesce e aiutai questa prima persona ad andare da essere solo a creare questo prodotto nuovo che era il salmone affumicato. Lui aveva una grande capacità tecnica, però era un artigiano solo che lavorava nel garage tra l'altro e aiutai questa prima persona spiegando, chiedendo a lui come mai non aveva portato questo prodotto nei ristoranti i Michelin Star della Capitale e lui disse sono a 700 chilometri dalla Capitale, non ho una lira, non posso neanche chiamare la Capitale e dico te lo faccio io, ti organizzo gli appuntamenti con i migliori ristoranti della Capitale, vieni su e quando ho questi inviti e presenta il tuo prodotto. E così quello fu, diciamo, come parte della mia ricerca, di dottorato di ricerca, cominciai questo piccolo esperimento in questa comunità di 10.000 persone, ci misi tre mesi ad aiutare questo primissimo imprenditore a avere ordini dai 10 ristoranti migliori della Capitale, questi ordini scritti, con questi andammo in banca e gli prestarono i soldi per creare questa piccolissima attività commerciale, tre mesi dopo, dopo aver cominciato a lavorare con questi ristoranti, fu in grado di aiutarlo con un investitore che investì un milione di dollari per aiutare in quella azienda e questa azienda si trasformò in 12 persone a tempo pieno e diventò il mio primo, la mia prima, diciamo, pubblicità localmente, perché questa persona disse se avete un sogno mi da parlare con Ernesto, questo si trasformò in cinque pescatori locali che lavoravano da soli, pescando tonno di aiutare a trovare un mercato a Tokyo, andarono da 60 centesimi di chilo a 15 dollari al chilo in nove mesi, la pubblicità fu talmente tanta che in quel paesino di 60 persone avevo 60 clienti di cui un cliente erano 50 degli allevatori più importanti della zona, in 24 mesi avevamo 27 attività commerciali nuove, alcune da pluri milioni di dollari australiani e diventò una specie di piccolo boom, un mini boom economico in quella piccola cittadina che creò l'interesse del governo australiano. Abbiamo creato questa attività, questa specie di dottore di famiglia degli affari che da quel paesino è diventato un movimento di 400 di queste persone che in 400 comunità diverse negli ultimi 30 anni hanno aiutato a creare un 55.000 imprese. Queste 55.000 imprese hanno una cosa in comune, nessuna era l'idea dell'agevolatore di impresa, erano tutte idee di una persona o di un gruppo di persone che avevano la passione, avevano l'idea, ma non sapevano come trasformarla da un'idea ad un'attività sostenibile e lucrativa. Ed è incredibile pensare perché non nasci come economista, non nasci come esperto di business, ma la facilitazione ti ha portato ad esserlo perché sei diventato poi riconosciuto a livello internazionale proprio per l'aiuto che hai dato agli imprenditori, ai piccoli imprenditori locali. Ma la cosa che mi è piaciuta anche e che credo preziosissima del tuo messaggio è che ne hai tratto in qualche modo una, come si può dire, un modello di lettura dell'attività imprenditoriale che hai chiamato la Trinity of Management che nella sua essenzialità sembra semplice, ma aiuta forse a dipanare le matasse quando ci perdiamo nella gestione delle imprese. Ce la puoi un po' spiegare? All'inizio, siccome non avevo mai studiato il mondo degli affari, avevo studiato soltanto scienze politiche e psicologia, pensavo che il mio primo cliente avesse un problema che era unico, che fosse l'unica persona al mondo ad avere quel problema. Qual era il suo problema? Lui era un artigiano che sapeva produrre il pesce affumicato e lui era quarta generazione. Tra l'altro lui veniva da una cultura, la cultura Maori della Nuova Zelanda, dove tradizionalmente sanno preparare il pesce affumicato perché in modo ancestrale quando c'erano dei periodi dell'anno quando pescavano molto e dei periodi quando non c'era pesce, quindi avevano imparato ad affumicarlo, avevano molte tecniche diverse. Quindi lui era un maestro, era bravissimo a fare il pesce affumicato. E cosa succede? Che lui, la sua passione era fare il prodotto, però non aveva nessunissima capacità di venderlo. Il modo come lo vendeva è che l'odore del fumo andava in giro sulla comunità e tutti sapevano che aveva fatto prodotto il pesce e andavano a comperarlo. Però non aveva nessuna capacità di arrivare fuori dal paesino e quindi mi trovai con una persona che era solo, tra l'altro dal punto di vista degli affari, dal punto di vista finanziario. Lui era andato in bancarotta due volte prima di conoscere me perché non aveva mai dato la gestione finanziaria a nessun altro. Allora io pensavo, questa persona era sola, era un caso straordinario di mancanza di spirito imprenditoriale. Allora che cosa ho dovuto fare? Lui era prodotto, io mi sono messo accanto inizialmente come gli ho fatto, ho bussato a porte, ho trovato gli vari chef di ristoranti, poi lui è venuto e lui ha fatto la vendita perché è sempre il tecnico che fa la vendita, ma la persona che bussa alle porte è una persona di rapporto. Quindi io anche non capendo niente di pesce fu in grado di avere gli appuntamenti dai vari ristoranti, poi lui venne e quando la persona di prodotto appassionato con lo chef di ristoranti all'altissimo livello, i due di loro, io li guardavo, era uno spettacolo perché tutte le domande che lo chef aveva il mio cliente sapeva risponderle, non solo, ma sapeva di più dello chef. Quindi un rapporto straordinario, dieci ristoranti di classe e dieci ordini. non sbagliava mai, era perfetta questa cosa. E poi fu in grado di convincere questa persona di prodotto a trovare una persona di finanza che lo potesse aiutare. Siccome lui adesso aveva fiducia di me, ha creduto a questa cosa ed è venuto con me dal suo commercialista che lui non aveva pagato negli ultimi due anni, abbiamo convinto il commercialista convinto il commercialista a diventare il co-firmatario del ceccario del mio cliente e di prendere il controllo finanziario prodotto, marketing e finanza. Quando ho conosciuto i pescatori pensavo che loro fossero anche loro un caso disperato, sono cinque persone, tutte hanno solo la passione di andare a pescare. Di nuovo, nessun commerciale, nessun controllo finanziario e ci misi un po' di tempo prima a farli lavorare insieme, poi a convincere loro a pagare una persona che gli aiutasse a commissione a vendere 120 tonnellate di tonno in Giappone invece che sul mercato australiano e loro andarono da 60 centesimi al chilo a 15 dollari al chilo in nove mesi. E poi convinsi loro a trovare una persona di fiducia che li badasse con le finanze. Questa persona di fiducia era la moglie di uno di loro, lavorava in banca da 13 anni, una delle banche più importanti della nazione australiana, Westpac, e lei lasciò la banca per badare questo affare di gruppo che avevano creato adesso questo gruppo e il primo anno lei ha dovuto badare a 5.7 milioni. quindi si parla di cifre importanti. Quindi inizialmente pensavo che prima o poi io avrei trovato una persona che sapesse fare prodotto, mercato e finanze. Invece addestrai i miei primi 36 agevolatori di impresa in Australia, ci riunivamo spesso e volentieri, quasi ogni mese ci riunivamo e io gli dicevo avete trovato qualcuno che è un vero imprenditore che lo sa fare e vende e badare soldi. Ernesto noi facciamo quello che fai tu chiediamo all'imprenditore che cosa sai fare e poi gli troviamo una persona che possa complementarlo o complementarla e cosa è successo? Che noi facevamo con questi 36 agevolatori di impresa in tutta l'Australia occidentale noi producevamo mille attività economiche nuove l'anno e mille espansioni. Quindi noi eravamo amatissimi dal governo perché queste 36 persone medici di famiglia delle imprese senza mai dare idee di cosa fare ma solo aiutando a fare quello che le persone amavano fare creavamo un'attività economica molto importante e io dicevo avete mai trovato no Ernesto noi la persona che lo sa fare e venderebbe da soldi non l'abbiamo trovato. Allora cominciai fui molto incuriosito venni in America in California io vivo in California adesso come sapete venni in America 25 anni fa per cercare come mai gli americani erano in grado di trovare questa persona gli Steve Jobs i Bill Gates prodotto mercato finanza favolosi come mai gli americani hanno questi geni e noi no quando venni a studiare gli americani ho scoperto che era tutta una bugia non è vero Steve Jobs non era da solo Bill Gates non era da solo è una montagna di balle nessuno in Silicon Valley ha messo su un'azienda da solo nessuno e allora ho detto fammi fare la ricerca allora mi sono chiuso in una libreria mi sono trovato cento libri delle cento società iconiche americane e ho studiato i libri scritti o dal proprietario da quello che ha inventato o dai contemporanei quindi io ho trovato i libri con la cronaca non sai la storia sai come si chiamano le storie dei santi la geografia le geografie che raccontano queste cavolate pazzesche perché sono di terza mano sono romanzi no 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 io mi sono andato a leggere le storie di ad esempio di Edison di di Henry Ford come hanno messo su le loro attività economiche non erano mai soli chi è che poteva dire no a quel genio che era Edison si chiamava Batchelor e Batchelor diceva a Edison no che diavolo stai dicendo e allora ho cominciato a cercare le storie anche dei nostri eroi Enzo Ferrari non era da solo aveva un ingegnere un ingegnere che era della Fiat che era l'ingegnere più più bravo in Italia e chi era il partner chi era la contabile della della Alfa della Alfa Romeo di Modena quando Enzo ha aperto l'attività chi era che faceva le finanze la mamma ecco la mamma di Enzo ma perché non le raccontiamo queste cose perché non le insegniamo a scuola i geni ma quale genio adesso dopo anni mi sono reso conto che non c'è nessuno al mondo che abbia la passione e il talento e la capacità di farlo di venderlo e di bagare solo non esiste perché non esiste in natura perché ci sono tre personalità che vedono il mondo in maniere diverse e vanno anche in conflitto e tu tocchi ancora la parola hai toccato due o tre volte anche adesso la parola passione e mi piace che prima nella conversazione che abbiamo avuto parlavi del progetto bellezza intorno all'idea di recuperare un po' la passione di qualcuno che la perde per strada credo che quel passaggio lì sia molto importante parliamo un attimo della nostra cultura italiana dell'umanesimo questa grandissima passione per l'individuo capace questo grandissimo rispetto e quindi vi voglio parlare un attimo di voi ognuno di noi è nato con con dei talenti che sono unici e questi talenti unici espressi al meglio vi fanno straordinari il momento in cui voi fate meravigliosamente bene quello che amate fare siete una forza della natura e se io chiedessi a voi il momento più bello e più importante della vostra vita professionale qual è stato nel momento nell'attimo di grazia che gli sportivi chiamano essere in zona quando il vostro talento personale coincide con la vostra capacità tecnica che cosa siete riusciti di fare nel giorno più importante della vostra vita professionale che contratto avete chiuso chi avete influenzato con il vostro insegnamento che cosa avete portato sul mercato in quel momento magico dove voi eravate come gli atleti dicono in zona l'atleta in zona dice che la palla era come il rallentatore hanno visto arrivare la palla sapevano esattamente dove colpirla per mandarla esattamente nell'angolo della rete il momento della zona è quel momento magico dove il vostro talento naturale coincide con in quel momento con l'attività che voi state mettendo in atto quel momento di grazia quello è dentro di voi sempre quanto tempo la settimana passate in quel momento di grazia facendo meravigliosamente bene quello che amate fare quanto tempo la settimana voi siete belli e il momento di grazia c'è uno psicologo americano che ha studiato quanto tempo noi passiamo alla settimana in quello stato di grazia che stiamo facendo il momento in cui stiamo facendo quello che siamo nati per fare al meglio della nostra capacità tecnica e noi passiamo nove minuti la settimana in quel momento il resto della settimana stiamo cercando di risolvere problemi di altri che noi non dovremmo neanche toccare e noi stiamo stiamo facendo male quello che odiamo fare ed è quello ed è quello che ho scoperto in questi ultimi 35 anni la morte dell'imprenditore è solitudine e cosa succede la persona comincia la sua attività con una passione pazzesca per una cosa 12 mesi dopo fa tre cose male perché perché non ha più il tempo di fare quello che ama perché sta cercando di imparare di fare al volo quello che lei pensa deve imparare a fare e cosa succede che non sei più concentrato nella tua area di passione e di talento e sei diventato un dilettante facendo le altre tue cose ti occupi di commerciale se non sei un commerciale ti occupi di finanza se non sei una persona di finanza e appena cominci a fare qualche cosa che tu odi fare per definizione sei mediocre perché le persone fanno bene solo quello che amano fare e cosa succede che all'inizio quando è cominciato un'area di passione nel quello che tu amavi fare eri attraente perché le persone a bocca aperta dicevano tu fai cosa e tu ami fare quello che madonna che meraviglia sei bello sei bella perché fai con passione quello che ami fare appena smetti di fare meravigliosamente bene quello che ami e cominci a cercare di imparare di fare al volo il resto sei una dilettante e se sei un dilettante ti guardano e non ti si avvicinano neanche sai perché perché immagina che tu sei una persona di prodotto che ha un prodotto favoloso e immagina adesso che hai cominciato a fare il commerciale del tuo prodotto immagina cosa succede quando tu incontri un commerciale vero di passione un commerciale vero guarda te e dice ma chi è questo dilettante questo dice che sta vendendo il suo prodotto che sta rappresentando la qualità del suo prodotto no questo non sta neanche come si usa come si vende sui social media e lui sta cercando di imparare a farlo è così la persona di finanza un vero una persona di finanza che ama la finanza è un artista come se tu artista a fare il prodotto ed una vera persona appassionata di finanza è un qualcuno che ha una visione del mondo completamente diversa dalla tua e queste tre personalità prodotto mercato finanza sono state la chiave che ha aiutato a creare queste 55.000 imprese perché noi ascoltiamo la persona completamente innamorati ci chiama la persona dicendo ho un sogno una passione e noi ci mettiamo così e li ascoltiamo in silenzio per mezz'ora e sentiamo il loro sogno e poi diciamo scusa posso fare un disegno ti faccio vedere un disegno questo sei tu la faccetta sorridente sopra e poi tre quadratini uno si chiama prodotto uno si chiama mercato uno si chiama finanza e gli diciamo se tu potessi fare per il resto della tua vita professionale quello che ami fare che cosa faresti diventeresti meraviglioso a fare il prodotto che il prodotto è anche servizio prodotto servizio ti concentreresti in quest'area spenderesti 260 giorni l'anno con la valigetta andando a tutte le fiere campionarie parlando con milioni di persone perché la tua passione è sono le persone il commerciale o saresti la persona che si occuperebbe di finanza se tu potessi fare quello che ami fare che cosa faresti e noi abbiamo avuto persone che sono scoppiate a piangere io ricordo questo 46enne canadese guardò quelle tre scatolette prodotto mercato finanza si mise a piangere e mi disse sono andato fallito tre volte in vita mia e ho pensato sempre che il mio problema era non ero in grado di fare le finanze e allora ho cercato di imparare a farle ed è stato un fallimento completo ho perso la mia famiglia divorziato non vedo neanche i figli e tu mi dici adesso che io non avrei mai dovuto fare la parte finanziaria io ho detto mai non toccarla ma stai scherzando se Henry Ford Enzo Ferrari Bill Gates Steve Jobs Richard Branson non sono riusciti a mettere su un'azienda da soli chi cavolo credi di essere tu da sola vuoi mettere su un'azienda ma non esiste io non ho mai trovato un libro sull'imprenditorialità che parla di una persona che ha messo su un'azienda da sola ma perché non lo insegniamo a scuola è pericolosissimo la morte dell'imprenditore e la solitudine e se tu sei circondato da altre due persone di prodotto e siete tre soci tre persone di prodotto non hanno né mercato né finanza siete un'azienda che sta soffrendo e se vi circondate persone come voi uguali a voi qui in America cioè si insegna che se il tuo socio la pensa come te c'è una persona di troppo in azienda perché paghi uno per la pensa come te a che ti serve i tuoi sogni sono persone che vedono il mondo diversamente da te perché mercato prodotto e finanza sono tre persone che vedono il mondo per questo sono sempre in contrapposti per questo c'è una dialettica interna perché come un matrimonio sono due DNA in un matrimonio maschile e femminile non si capiranno mai ma se non si mettono insieme la vita non nasce per un'azienda sono tre DNA il DNA di quello che inventa un prodotto inventa un servizio quello che va e cerca di capire al mondo a chi serve questo prodotto o questo servizio e come deve essere modificato per essere accettato dal mondo è la persona di finanza che dice questo non è un hobby dovete venderlo al valore vero e quindi cosa succede che nel matrimonio sono due DNA maschile e femminile nel mondo aziendale sono tre e devono essere due persone nel matrimonio che sono talmente autentiche e talmente vere che sono le loro persone sono un vero uomo e una vera donna allora sì che funziona il matrimonio non c'è un padrone non c'è una persona è sempre un compromesso e il compromesso è perché ci si vuole bene perché ci si ama in un'azienda sono tre persone che fanno un compromesso hanno una visione comune e sono sempre a cercare fra di loro come aiutarsi e come moderarsi per cercare di raggiungere questo obiettivo perdonami Ernesto perché qui si apre un tema delicato hai usato anche proprio la parola padrone che in Veneto tu non so se conosci il Veneto si dice paron ma è un termine che aiuta a definire chi guida in qualche modo hai una figura che a quel punto dà il là tutto quanto quella figura si porta dentro la solitudine come dicevi tu prima ma ha dentro il disegno e gli altri lo supportano ma è lui in qualche modo lei ma molto più spesso nella tradizione lui porta avanti quel progetto quando tu mi dici di esternalizzare come hai detto trovo corretto allora se capisco bene pensare a un progetto bellezza perché hai tre persone entusiaste ognuna piena di passione per l'area in cui è coinvolta però si apre un altro problema che è tipico io che mi occupo anche molto di passaggio generazionale del paron singolo che diventa famiglia allargata della conflittualità cioè io ti chiedo adesso come ti sei trovato a gestire la conflittualità tra queste diverse anime che non sono naturalmente portate alla stessa visione prima di tutto non è vero che è solo perché il paron se è in affari per più di cinque anni e guadagna vuol dire che non è solo ok perché ha trovato un modo di avere un commerciale e un modo di avere una gestione di finanza perché come cervello il paron non sa fare queste tre cose per cui se tu guardi Enzo Ferrari da fuori sembra il paron ma non era mai solo quindi prima di tutto non è vero assolutamente niente il problema il problema generazionale è un altro è che il paron ha le sue spalle coperte perché ha una persona il suo commercialista che conosce da 30 anni che gli fa le tasse col quale lui può parlare il paron non dà accesso al suo amico commercialista alla figlia perché è il paron che si è creato il modo di andare avanti aziendale con prodotto mercato e finanza ma lo controlla lui lui controlla le informazioni che il suo team ad esempio in moltissime situazioni familiari il coniuge aiuta tantissimo il paron ha la moglie che gli fa cose che il paron non sa fare non vuol fare lui non vuol andare alla posta a fare quella lettera registrata per le tasse non ha la testa non ha la volontà lui vuol fare soltanto quello che vuol fare lui con le mani o col suo cervello però lui si è organizzato per avere prodotto mercato e finanza altrimenti ti garantisco che quell'azienda familiare non sarebbe in affari quindi il problema è un altro il problema è che il paron controlla le relazioni che lui si è costruito e queste relazioni sono talmente intime per un paron tradizionale che l'erede il figlio la figlia non ha accesso allo stesso tipo di dedizione che il paron si è creato con anni di rapporto quindi quando ricordati è come una macchina che ha quattro ruote è il paron prodotto mercato e finanza che in qualche modo il paron è riuscito a creare questo questo veicolo con quattro ruote che si muove la figlia o il figlio che entra in azienda deve trova le quattro ruote se il il padre la madre va via la figlia o il figlio deve lavorare con le altre tre ruote c'è zero zero possibilità che questo erede sia in grado di far lavorare queste quattro ruote o queste tre altre ruote se non è sta non c'è stato mai una una trasmissione di contatto e di fiducia fra le persone che erano intorno al paron e l'erede perché ricordati che è una is a fallacy dicono in inglese non è vero che il paron è solo no ma il paron solo non avrebbe mai creato l'azienda condivido molto questo e il tema era proprio quello di allargare poi quel controllo appunto perché da una parte c'è la difficoltà di mollare un po' il controllo da parte di chi magari ha messo in moto la macchina dall'altra proprio e qua ti chiedevo l'esperienza proprio di queste tre anime che devono convivere come gestire i conflitti naturali che si aprono mettendo insieme queste tre diverse bellezze quindi volevo portarti un po' sulla parte del conflitto se la tua esperienza il conflitto il conflitto è questo c'è un libro che voi avrete letto Jim Collins il libro era Good to Great Buono ad Eccezionale non so quale fosse il titolo italiano ma si chiama Good to Great e c'è una una bellissima storia nel libro che dice che il questi manager eccezionali che hanno trasformato queste imprese che erano già buone perché erano avevano per vent'anni erano state avevano avuto una media di 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 per vent'anni migliore di Wall Street e poi dopo vent'anni che avevano questa questa ottima diciamo reputazione ottimi guadagni dopo vent'anni sono esclose quindi la linea era così e poi sono andati boom in salita e sono andati da essere buone ad essere ottime e lui questo Jim Collins ha studiato la curva quando la curva è andata da buona a ottima hanno studiato qui che cosa è successo al punto di inflessione e hanno pensato forse avranno cambiato tecnologia avranno cambiato management invece hanno scoperto che non era vero niente questo punto di inflessione è successo dall'interno dell'azienda cosa è successo che dopo vent'anni che era buona questa azienda all'interno dell'azienda aveva trovato le persone quelli che siano fatti proprio erano diventati bravissimi nel loro settore e li hanno promossi al punto tale che adesso sono parte del team decisionale sappiamo fare il nostro mestiere benissimo adesso voi i più bravi venite su il miglior commerciale il miglior punto di vista operativo la persona di finanza adesso abbiamo un team immaginate abbiamo fatto una scuola pulcini per la Juventus o per il Milan vediamo fuori il meglio del meglio e adesso la Juventus o il Milan o whatever l'Inter ha questo team che è da sogno il momento che hai il team di sogno dal momento in cui hai il team perfetto prodotto mercato finanza nel libro si parla di quattro anni quando questo team ha provato tutte le possibili strade nel mercato fino a trovare l'area dove loro avevano un tale vantaggio competitivo da diventare i migliori e ci hanno messo quattro anni dove questo team ha fiatato ha cominciato a giocare il campo fino a quando hanno trovato assolutamente come penetrare il mercato e andare da essere buoni a diventare ottimi durante questi quattro anni lui racconta nel libro potevi sentire le urla nel corridoio perché questo team fantastico erano persone talmente forti nelle loro aree che non c'era un padrone che diceva facciamo così era il team che portava notizie dal mercato notizie di finanza e notizie operative ed erano sempre in conflitto e il ruolo del direttore amministrativo era quello di fare l'arbitro di ascoltare tutte e tre e dire allora vi ho sentito tutti e tre andiamo in questa direzione tra sei mesi guardiamo i dati e vediamo se dobbiamo aggiustarci o no perché nessuno dei tre aveva ragione nessuno dei tre aveva torto bisognava fare un compromesso perché la persona di prodotto voleva più soldi per fare ricerca per un prodotto nuovo la persona di mercato voleva più soldi per fare la pubblicità la persona di finanza voleva tagliare tutti i costi e il ruolo del direttore amministrativo era di ascoltare tutti e di prendere una decisione dicendo proviamo questo e nessuno vinceva ma nessuno perdeva era un compromesso che è quello che succede in tutte i matrimoni sani c'è sempre un compromesso c'è sempre un compromesso e quindi il discorso è molto interessante il discorso di non solo formi il team però questo team poi è un team di persone che non sono acquiescenti se tu è una persona commerciale straordinaria la persona straordinaria commerciale quando torna in fabbrica e ti dice quello che il mondo vuole ti mette in crisi le persone di prodotto e ti mette in crisi le persone di finanza e queste dicono ma che stai scherzando tu che cosa ma il pubblico lo vuole lo vuole rosa ma noi lavoriamo per l'esercito non possiamo fare gli zaini rosa le donne hanno scoperto le attività turistiche vogliono i zaini rosa color pastello non li possiamo fare solo bimetici e la pressione di prodotto fa mai e poi mai noi lavoriamo soltanto con la reputazione di lavorare per l'esercito sì ma vogliamo fare soldi o vogliamo lavorare per l'esercito detto così c'è sempre tensione tra queste tre personalità non solo ma mi stai dicendo allora che il vero ruolo imprenditoriale a quel punto diventa quasi il ruolo dell'arbitro cioè quello che in qualche modo ha dato una linea guida ascolta e dopo tira le somme in qualche modo delle diverse voci per far sintesi del vero del vero amministratore delegato del vero parone sarebbe quello di dire metto su un team straordinario li ascolto li ascolto tutti e tre e poi io prendo una decisione e quelli che non si che non si allenano dietro di me se ne devono andare perché la lealtà è giochiamo in squadra il mondo degli affari è una un gioco di squadra è come dire no io voglio fare il sono un attaccante non mi puoi mettere a fare un ala rotante perché non mi piace io se tu mi dici che devo giocare allora io questa partita non la gioco e no tu non puoi dire che non la giochi perché il team è più importante di te e la storia che io dico agli americani perché gli americani non giocano il calcio giocano pallacanestro è il loro più Michael Jordan il quale Michael Jordan il miglior giocatore di pallacanestro al mondo non aveva mai vinto un campionato fino a quando ha trovato l'allenatore dei Chicago Bulls che gli ha detto Michael passa la palla e Michael diceva come sono il migliore Michael passa la palla perché sono cinque contro di te addirittura quando Michael ha cominciato a giocare nella serie americana tutte le altre squadre hanno scritto un libro come fermare Michael che sono sono fotocopiato e sono sono passati tutti i team dicendo se Michael fa così voi dovete fare così si erano passati un libro si erano creati un libro come fermare Michael Jordan sono cinque contro uno alla fine Michael ha dovuto imparare a passare la palla perché fino a quando non passava la palla non avevano mai vinto un campionato questo succede nelle vostre squadre devi passare la palla questo è bellissimo quindi il discorso è questo prima capire chi diavolo sei come dove è andata a finire la tua bellezza adesso ti sei mortificato facendo dei lavori che una segretaria dovrebbe fare ti sei messa a fare la segretaria di te stesso per non pagare due soldi a uno studente che fare uno stage da voi ti sei messa a fare le fotocopie porche miseria è come se io dicessi che cosa hai fatto nel momento più importante professionale e Francesca mi dicesse io ho chiuso un contratto da 5 milioni di euro e come mai domani non ne chiudi un altro perché c'ho da fare da fare cosa come da fare è la cosa più importante come già io sai io ho avuto delle persone che mi hanno detto al meglio della mia carriera io ho fatto un contratto da da 10 milioni di dollari facendo cosa io ho venduto un progetto ok quanti ne fai alla settimana di progetti così come mai non ci diamo permesso di essere magnifici che cosa fa una famiglia californiana se ha una figlia di 16 anni che è straordinaria in matematica ma sta fallendo tutti gli altri soggetti a scuola che cosa fa una famiglia americana californiana toglie la ragazza dalla scuola e le dà un professore di matematica a tempo pieno a casa perché perché a 19 anni la ragazza è a Stanford e a 21 anni ha un PhD in matematica a Stanford invece noi che cosa facciamo meniamo al nostro figlio come mio padre menava a me perché non mi piaceva il latino e l'algebra però io facevo il culo così a tutti perché io ho fatto gli esami di maturità con in francese parlando su una la mia il mio soggetto era il romanzo in Europa e i professori quando ho fatto la mia presentazione il presidente della commissione ha detto scusi Sirolli potrebbe continuare il discorso in italiano perché ci piacerebbe capirlo anche a noi però noi io noi siamo tutti mortificati perché la cosa che ci viene naturale non è premiata ma quello ti viene per forza ti viene facile a te se ti viene facile non è apprezzata è apprezzato il sacrificio che fai di imparare le cose che poi non ti serviranno ma è più in vita tua sai cosa mi fai venire in mente che cosa è successa della tua passione che cosa ne hanno fatto e che cosa ne hai fatto tu della tua passione questa è la domanda chiave sai cosa mi fai venire in mente un imprenditore che mi diceva io non mi diverto e non capisco perché i dipendenti dovrebbero divertirsi e non capiva che aveva perso la passione e rischiava di far perdere la passione anche ai propri collaboratori mentre quello che dici è tirar fuori il meglio da tutti quando con minor fatica e minor sforzo fanno quello che a loro veramente piace e con risultati eccezionali l'amministratore ho visto una domanda l'amministratore è luce diffusa sul prodotto mercato e finanza l'amministratore non ama nessuno dei tre settori perché se tu metti un amministratore a fare le scarpe a mano lui dice no io avevo cominciato facendo le scarpe a mano ma non è la mia passione adesso è creare un'azienda che vende scarpe al mondo però quindi la persona l'amministratore è luce diffusa ma quelli dentro le tre scatoline prodotto mercato e finanza sono come un laser allora devi avere dei laser all'interno di prodotto mercato e finanza e l'amministratore deve essere una luce diffusa come un allenatore era un calciatore però non ti può dire io alleno soltanto i difensori perché era un difensore mi piace la difesa io alleno soltanto i difensori no tu devi devi allenare gli attaccanti i centrocampisti i fantasisti le alle rotanti devi devi allenare la squadra per cui è verissimo l'amministratore è luce diffusa ed è una persona che non ha ness se tu lo metti a fare solo una cosa impazzisce se metti sono degli amministratori li metti a fare i conti dopo otto ore facendo le finanze impazziscono non è il loro qual è il lavoro dell'amministratore è impiegare e e licenziare questo è il compito crei un team ti trovi i giocatori giusti e poi li ascolti e vedi come giocano e da come giocano tu dici ah ma forse lui potrebbe essere il il fantasista centrocampista guarda che intelligenza che ha lui vede mentre sta giocando vede dove dove sono gli altri allora ti vedo allora ti sposto un po' e quindi tu potresti avere il tuo lavoro è quello di guardarli come puoi creare una successione aziendale dando la possibilità ai tuoi successori di brillare in quello che amano fare allora tu li guardi e vedi lo sai che mia figlia ha studiato ragioniera ma questa ha una personalità stravolgente la porto con me ogni volta che andiamo a conoscere un cliente ma porca miseria il giorno dopo lei manda si manda i bigliettini di auguri conosci i nomi dei figli si ricorda le cose ma forse lei è una commerciale e allora la provi e ti scopri che la togli dall'ufficio dove faceva la ragioniera e le dici provi la vedi e ti scopri che tua figlia è un talento naturale e allora le dici senti mi fai la cortesia mi vai tu alla prossima mostra del legno dell'azione e lei dice ma no ma io faccio i conti papà senti fammi la cortesia passa vai a vedere alla fine di Milano come funzionano le cose vieni un po' fai tu il padiglione e ti rendi conto che tua figlia torna tuo figlio torna e sono radianti li scopri che hanno scoperto che sanno fare una cosa e quando scopri questo allora dici aspetta un attimo adesso lei potrebbe far parte del team le affianco una persona di finanza le affianco un team di prodotto e li faccio giocare un po' e vediamo un po' come lavorano ma la prima cosa è questo assolutamente desiderio di creare il progetto bellezza tu vuoi persone belle che lavorano insieme e che si complementino questo vuoi questa non è stata una passeggiata una carrellata di conversazione di business è stata una carrellata veramente di conversazione a 360 gradi ci sono alcuni insegnanti tra quelli che ci ascoltano c'è alcuni imprenditori c'è alcuni e molti magari fanno informatori un'ultima domanda arriva da Filippo che in chat ci chiede e ti chiede qual è il modo per capire come una persona può individuare la propria bellezza i propri talenti proprio per farla venire fuori allora qualche suggerimento in chiusura dato che sono già le 10 sì guarda la prima cosa è per quelli che mi dicono io non ho non ho passione io non veramente se ci penso ho fatto sempre quello che mi hanno detto di fare i genitori a scuola facevo ero brava a tutto però mi ritrovo adesso a non sapere veramente chi sono quello che io gli chiedo di fare un esperimento che è molto strano gli dico di ricordare chi erano quando avevano nove anni tu quando avevi nove anni dieci anni chi eri? avevi amici? amici li dovevi cercare tu gli amici o ti venivano a cercare loro? giocavi con cose o eri sociale? ti piacevano gli animali? ti piacevano ti piaceva costruire? avevi il set di meccano? costruivi facevi con le mani facevi con le parole avevi un diario scrivevi chi eri tu quando avevi nove anni dieci anni? perché è il momento dove sei già sei formato come il tuo cervello si forma molto molto presto a tre anni praticamente il tuo cervello il tuo carattere introverso estroverso è già formato a tre anni a nove anni hai avuto qualche anno di socializzazione a scuola però sei prima dell'indottrinamento culturale che viene poi con le scuole medie con il liceo dove sei costretto a fare quello che la società ti dice di fare quindi sei ancora in un momento magico dove sei ancora puoi esprimere la tua individualità e questa cosa ha aiutato moltissimo delle persone che erano perché quando ci hanno riflettuto hanno detto io ero la più grande organizzatrice di feste io ero ero il centro della vita sociale dei miei amici c'è la persona che dice no io guarda ore da solo in natura mi piaceva guardavo le foglie guardavo gli animali che cosa fai adesso dice adesso io faccio sono sempre chiuso dentro casa il momento io vivo per il fine settimana perché faccio queste lunghe camminate in montagna ma hai mai pensato di trovare un'attività che combini quello che fai adesso con la natura io ho avuto delle persone che veramente si sono hanno scoperto di aver trascurato se stesse e dovete piacervi un po' datevi datevi un attimo datevi abbiate compassione di voi stessi alcuni di voi sono molto crudeli perché verso se stessi perché avete veramente non dato vi hanno convinto a non ascoltarvi e certe volte voi giocate questo gioco c'è una una poesia molto bella che dovreste che io consiglio a tutti di leggere e soprattutto consiglio ai genitori di leggere ai figli Luca te la senti di leggere una poesia la trovi in linea si si chiama la nostra più grande paura oh come no vado a nozze con questo della Williamson perché non la legge a tutti vediamo se qualche genitore avesse il coraggio di leggerla ai propri figlioli perché dovete avere coraggio a leggere questa poesia perché è la poesia meno cattolica e meno italiana che io avessi mai letto ed è tra l'altro una di queste una piccolissima parte di questa poesia fu utilizzata da Mandela durante il suo famoso pensati allora ti dico un aneddoto allora chiudere con questo è bellissimo tu non sai che hai toccato una corda molto sensibile per me pensati che io la porto anche nei corsi fidanzati in parrocchia giusto per dirti e al di là delle battute ho fatto una ricerca per cui l'ho scoperta con Richard Branson che la cita nella sua biografia e dice che la citava Nelson Mandela sono andato a leggermi Nelson Mandela e ho scoperto che lo scriveva la Williamson sono andato alla Williamson e ho scoperto che lei lo citava da un altro libro che si chiama Un corso in miracoli per cui c'è una storia dietro e merita di essere letta quindi ti ringrazio di questa chiusura e con questa chiusura no anzi i saluti li facciamo dopo ma ti ringrazio ancora già tantissimo qualcuno vorrebbe che continuassimo un'altra puntata ti inviterò ancora ma magari con piacere guarda una volta una televisione due giornalisti vennero a intervistarmi e loro mi dissero parla e messero il the tape recorders on the table la cassetta il registratore sì e io dissi quanto tempo ho e loro mi dissero no 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 parla 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 e poi lo tagliamo noi e noi diciamo a me parlai per 16 ore quindi quindi sei pericoloso questo non è niente per me allora ecco quella poesia la nostra paura più profonda non è di essere inadeguati la nostra paura più profonda è di essere potenti oltre ogni limite è la nostra luce non la nostra ombra a spaventarci di più ci domandiamo chi sono io per essere brillante pieno di talento favoloso in realtà chi sei tu per non esserlo siamo figli di Dio il nostro giocare in piccolo non serve al mondo non c'è nulla di illuminato nello sminuire se stessi così che gli altri non si sentano insicuri intorno a noi siamo tutti nati per risplendere come fanno i bambini siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi non solo in alcuni di noi in ognuno di noi e quando permettiamo alla nostra luce di risplendere inconsapevolmente diamo agli altri la possibilità di fare lo stesso e quando ci liberiamo dalle nostre paure la nostra presenza automaticamente libera gli altri grazie Ernesto è stato veramente una chiusura straordinaria quella che mi hai fatto fare con questa bellissima poesia ma veramente è un qualcosa che mi onora e mi tocca aver avuto la possibilità di chiacchierare e conversare con te domani sarò tra i pochi privilegiati che potranno continuare la conversazione in un corso che tu tieni ma dico a tutti che lo tieni abitualmente quindi ci sono altre occasioni per seguirti ci sono dei percorsi che tu proponi quindi chi fosse interessato avrà qualche contatto mandatemi una mail vi tengo informati e veramente ancora Ernesto di cuore perché tu hai parlato perché tutti siamo un po' imprenditori per metterci tutti in gioco nei nostri diversi ruoli questo almeno quello che porto a casa grazie mille Ernesto ciao a tutti è stato un piacere grazie ciao ciao